Luisa Franza torna all'appuntamento con il Prima Zona Winter Contest, un appuntamento storico che nasce dalla grande collaborazione di tutti i circoli velici della Liguria sotto la regia del Comitato Prima Zona. Un grande appuntamento anche perché ormai ha istituzionalizzato in una stagione che una volta per la vera era una stagione morta, invece un appuntamento che richiama tanti grandi campioni nella nostra regione. È verissimo, io non parlerei affatto di stagione morta perché io sono anni che sostengo che in una regione come la nostra la stagione morta non esiste. Da noi si può andare per mare tutto l'anno, la temperatura in mare è la stessa che esattamente quella che troviamo a terra, quindi non ci ha affatto differenza e non vedo perché fare queste distinzioni. È uno sprone in più per noi poter lavorare in inverno, in altre zone non lo possono fare, quindi i nostri ragazzi si possono preparare meglio e più a lungo. Il Prima Zona Winter Contest è nato proprio con questo obiettivo, iniziare la stagione agonistica in anticipo, quindi preparare meglio non solo i nostri ragazzi ma tutti i ragazzi poi per le manifestazioni nazionali più importanti e unire i circoli del genovese. Il programma e i numeri di questa edizione 2014 ancora una volta in crescita? Sì, quest'anno abbiamo apportato alcune modifiche perché come tutte le manifestazioni che si protraggono negli anni hanno bisogno di un rinnovamento. La prima novità è che quest'anno le classi gareggeranno per un intero weekend, quindi sabato e domenica. La seconda novità è che abbiamo abbinato al Winter Contest la Supercoppa Prima Zona. Per noi è stato un altro notevole sforzo, però in questo modo speriamo di incrementare la partecipazione non soltanto al Winter Contest ma anche alle regate che sono ad esse collegate. Quindi alcune classi hanno già disputato la prima tappa di questa Supercoppa ad Imperia per i 420 e i 470 e a Sanremo per gli Ottimist, mentre invece i Laser completeranno questa Supercoppa, l'Ojota Club Italiano, con due regate molto importanti che ci saranno a febbraio. Le date di questa edizione del Prima Zona? Allora, si parte subito il prossimo weekend, quindi 18-19, con le classi 420, 470 e D1, che sono un pochino una classe nuova, molto spettacolare, molto bella. Vedrete che ci saranno parecchi regattanti che vengono anche da Roma, da altre regioni, quindi insomma un nutrito numero di D1. Si passa poi al weekend successivo con gli Ottimist, poi ci sarà una pausa e si ricomincia a febbraio il 7-8 con la classe Laser. Matteo Rossi, torna la vela d'inverno, torna un appuntamento storico, il Prima Zona Winter Contest per le classi olimpiche è ormai un appuntamento importante, anche perché è uno sport di tradizione per la regione Liguria, è l'impianto sportivo più importante che abbiamo, il mare, che non è più legato come una volta soltanto a certe stagioni, ormai la vela davvero è tutto l'anno, anche d'inverno. Anche d'inverno e quindi anche motivo in più per sostenere e ringraziare gli organizzatori, perché fanno sì che la nostra regione, il nostro territorio, la nostra città e il nostro mare vengano valorizzati anche nei mesi invernali. Quindi mi sembra di capire dall'alto numero di partecipanti che le condizioni meteomarine del nostro mare fanno sì che le nostre manifestazioni siano molto partecipate. Tanti appuntamenti insieme al Prima Zona Winter Contest, sotto la regia del Comitato Prima Zona anche tanti campionati invernali. Insomma la vela davvero anche fuori stagione diventa un mezzo per portare persone in Liguria che è importante per la regione. Sì, di fatti nei mesi tra dicembre e gennaio ci sono tre importanti regate in regione Liguria e questo fa sì che sul nostro territorio ci sia anche un importante indotto dal punto di vista delle presenze. Il fatto che la Prima Winter Contest si svolga su due giorni farà sì che i partecipanti, gli appassionati possano pernottare nei nostri alberghi, nella nostra città, che possono anche conoscerla dal punto di vista culturale. Quindi ringraziamo chi tra le mille difficoltà dal punto di vista economico ha il coraggio di investire in manifestazioni sportive e credo che le istituzioni debbano fare una riflessione molto più approfondita per far sì che le poche risorse che ci sono vadano anche alle manifestazioni sportive. Diciamo che siamo un po' arretrati da questo punto di vista come politica nel valorizzare questo settore. Grazie a tutti.